Si sono spenti rapidamente i riflettori su Haiti, nonostante il bilancio delle vittime del terremoto dello scorso 12 gennaio, ha toccato quota 220.000. I giornali e le tv hanno abbandonato presto l'argomento complice alla campagna elettorale di casa nostra, ma le condizioni del piccolo stato caraibico e della sua gente sono ancora disperate. Manca acqua e assistenza sanitaria e il numero dei senza tetto continua ad aumentare. Intanto la macchina degli aiuti prosegue il suo lavoro, ma gli osservatori internazionali denunciano il rischio di sprechi e speculazioni da parte delle molte associazioni e ONG. Condivide questa preoccupazione anche il reporter Giorgio Fornoni, tornato da poco da un viaggio a reportage ad Haiti. C'è la necessità di essere solidari per aiutare gli altri, perché noi italiani fra l'altro siamo veramente generosi, però dall'altra parte dobbiamo stare attenti a chi mandare e chi inviare gli aiuti. Quindi secondo me se riuscissimo a mandarli direttamente a delle associazioni religiose presenti sull'isola o a quelle istituzioni in qualche modo che riescono a operare con l'isola, quindi queste diventano cose abbastanza importanti. Ecco perché Bertolaso l'ha detto, Frattini e Berlusconi poi a un certo punto hanno detto no, no, tu devi stare zitto, non è così. Sì, invece proprio è vero. Quando lui ha detto, sono arrivato laggiù ho visto che nessuno riusciva a fare niente. Quando tu vedi che 20.000 americani arrivano lì sull'isola con tutti i camion, con tutti i carri armati, con tutte le forze e così via, con tutte le cibi, ti chiedi ma perché non sono andati con le ruspe? Se andavano con le ruspe avrebbero dato una mano e avrebbe avuto un senso di tutto, invece no. La cosa importante è riuscire a tenere in mano l'isola. 212.000 persone cosa significa? Significa che hanno causato anche 350.000 feriti che sono state spostate, dislocate, diventano ormai gente in cerca di un rifugio, più di un milione di persone. Quindi all'interno di Porto Prens, cioè in qualsiasi posto, quindi nei parchi di fronte anche al palazzo che è caduto anche quello o dove c'è un spazio verde aperto, cioè c'è la gente che si crea dei ripari di fortuna, quindi fatti con... alcuni hanno le tende ma altri invece devono sfruttare degli stracci, devono sfruttare dei cellophane, dei cartoni, delle lamiere per avere dei ripari di fortuna. E poi la cosa brutta è che proprio di fronte ognuno alle proprie... così al proprio riparo fanno i propri bisogni, sporcono tutto e dappertutto, proprio alla luce del sole. Alcuni dormono anche sotto le stelle, però ce ne sono altri più sfortunati che hanno preso posto solamente sui costoni di valletti, dove ci sono anche dei rigagnoli pieni di liquami, dove ci sono in mezzo a fumi, a odori, a puzze di tutte le cose, quindi questa povera gente. Immaginiamoci in quale condizioni questi vivono.